Buongiorno a tutti, prenderò molto meno tempo dei cinque minuti. Questa mozione nasce come dimostrazione della buona volontà della maggioranza di discutere un punto in particolare della delibera 30 che è stato sollevato dalle associazioni di categoria e che riguardava la decadenza delle autorizzazioni delle rotazioni. Questo avrebbe generato sicuramente la perdita del titolo quindi dell'autorizzazione per moltissimi e quindi questo errore che abbiamo riconosciuto ha portato a dei colloqui nei quali abbiamo detto subito che eravamo disponibili a modificare questo punto e ad avviare una trattativa con le associazioni e un ascolto di tutte le altre osservazioni che dovranno pervenire. Questi tavoli ci sono stati già dalla notte stessa in cui è stata approvata la delibera abbiamo fatto almeno altri tre incontri con l'associazione di categoria in cui abbiamo parlato di vari temi, abbiamo accolto e ascoltato tutte le osservazioni abbiamo detto che alcune delle osservazioni presentate ci sono accoglibili altre non potranno essere calate nella proposta politica del Movimento 5 Stelle ma comunque stiamo portando avanti questi tavoli perché riteniamo che la partecipazione debba essere fatta e sia utile agli operatori come anche alla cittadinanza quindi oggi dimostriamo quello che abbiamo detto a parole cioè la volontà di procedere alla modifica della 30 anche in tempi brevi per questo punto e eventualmente accogliere degli elementi migliorativi che possano provare dall'associazione di categoria o anche da altri enti istituzionali o associazioni di cittadini. Quindi oggi voteremo favorevolmente a questa mozione per dimostrare che teniamo fede alla parola data. Grazie